Un anno di consiglio regionale in 40 minuti di trasmissione su Telegram Ducato che per comodità abbiamo diviso in due parti prima e dopo la pausa estiva un modo speriamo efficace per ricordare fatti eventi e personaggi di cui si è discusso nel 2023 nel parlamentino della Toscana che si è trovato da un lato a relazionarsi con un governo nuovo che si è insediato nell'ottobre del 2022 fresco di nomina in qualche modo dall'altro a gestire dopo la coda della pandemia la terribile dell'emergenza dell'alluvione che ha colpito in particolare uno dei distretti produttivi più importanti della nostra regione ma andiamo con ordine cominciamo spostandoci idealmente sulla neve che però a inizio anno dopo le feste non c'era ancora sull'appennino e anche quella è stata un'emergenza con danni valutati in almeno 50 milioni così la prima riunione che si è svolta a palazzo del pegaso è stata quella della commissione per le aree interne e montane c'è un'emergenza da affrontare un'emergenza molto importante in termini di impatti economici e sociali si pensi solo ai lavoratori e agli stagionali che lavorano attorno al sistema neve allo stesso tempo si pone una questione che riguarda la prospettiva il medio e lungo termine il trend c'è stato detto anche in commissione è comunque negli ultimi anni di una progressiva diminuzione delle precipitazioni nevose non ci sono distinguo l'impegno dei membri della commissione delle diverse forze politiche è unanime e condiviso valuto positivamente che tutte le forze politiche stiano facendo quadrato attorno al problema della mancanza di neve in tutte le stazioni sciistiche in particolare però mi riferisco alla nostra perla che è a betone poi la neve in realtà è arrivata ma a inverno ormai inoltrato il lamma ha presentato in effetti un report sul clima che evidentemente cambia in toscana parliamo ora dei cittadini dei loro diritti dopo un dibattito lungo durato molte settimane il consiglio regionale ha eletto il nuovo difensore civico della toscana ecco il nostro racconto sulla votazione e dunque alla fine dopo tante polemiche lucia annibali viene scelta come difensore civico della toscana l'aveva proposta qualche settimana fa il capogruppo di italia viva era un ex deputata di italia viva lucia annibali l'ha confermata il partito democratico e insieme la maggioranza di centrosinistra ha convenuto sul suo nome adesso naturalmente ci sono molte polemiche da parte del centrodestra che ha abbandonato l'aula mentre il movimento 5 stelle ha fatto una scelta diversa di proporre un proprio candidato che evidentemente non ce l'ha fatta volevamo dare alla toscana una donna prima di tutto volevamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita e credo che la toscana oggi esca più forte ne escono più forti i diritti delle donne degli uomini dei ragazzi delle persone degli ultimi hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani ovvero il difensore civico la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della toscana di fronte alle istituzioni qualora ci siano controversie quindi la figura di massima garanzia per la città per la regione è stata utilizzata dal partito democratico e da italia viva per mantenere in piedi la maggioranza il consiglio regionale celebra in modo solenne anche la giornata della memoria è quella del ricordo per testimoniare un orrore condiviso per due grandi tragedie del novecento la shoal olocausto e le foibe nella seduta a cavallo tra gennaio e febbraio c'è un argomento che spicca sugli atti e che riguarda in particolare il movimento il trasporto tra la costa e il centro della nostra regione si torna a parlare della possibilità del pedaggio almeno per i mezzi pesanti sulla firenze pisa livorno e di una gestione del tutto nuova di questa strada che probabilmente è la più importante sicuramente una delle più trafficate della nostra regione e a questo punto naturalmente si sentono anche tanti pareri politici diversi l'argomento a proda poi in commissione controllo e naturalmente ci sono state anche discussioni successive su questo che è uno dei punti fondamentali per lo sviluppo della toscana e poi in aula si parla ancora di covid arriva a conclusione il lavoro che in verità si è svolto un po in sordina della commissione regionale d'inchiesta sulla gestione della pandemia e anche stavolta non si sfugge alla regola della doppia relazione i due documenti di maggioranza e opposizione vengono illustrati e commentati dunque dal presidente della commissione fantozzi di fratelli d'italia e dalla vicepresidente fratoni del pd c'è stata una via che è quella della maggioranza è una via di tutti i gruppi di opposizione su un lavoro che comunque propedeuticamente abbiamo condiviso dove sostanzialmente abbiamo voluto rimarcare determinati aspetti senza riuscire forse a farsi intendere molto bene dalla maggioranza che sostanzialmente rimane racchiusa all'interno della politica dei primati. Devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la regione ha messo in campo si vede come si sia da subito mobilitata la giunta al presidente Rossi nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto molto snello che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto tre aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica. Nelle premesse c'è un escursus sull'andamento della pandemia in Toscana con tutte le date dei primi eventi e delle decisioni regionali e nazionali conseguenti. L'allarme del gennaio del 2020, i primi casi di fine febbraio, il duro lockdown di marzo e aprile e poi codici, colori, divieti, allentamenti, una guida utile anche per ricordare ogni singolo drammatico momento e per analizzare a fondo le conseguenze economiche di quanto è accaduto. Alla fine si arriva comunque ad un giudizio diverso sulla risposta della sanità regionale, tutto sommato positivo da parte del centro-sinistra, critico invece quello delle opposizioni centrodestra e Movimento 5 Stelle. L'aggressione davanti al liceo Michelangelo di Firenze il 18 febbraio anima il confronto politico anche in consiglio regionale. A proposito di scuola c'è una novità importante votata da tutti e così adesso una legge regionale cancella l'obbligo del certificato medico per il rientro dopo una malattia, una piccola rivoluzione che cambia una consuetudine ormai consolidata. Lo hanno già fatto molte altre regioni, gli esperti assicurano nessun rischio per la salute. Nel cuore della Toscana c'è una struttura di uomini e mezzi che è in grado di gestire tutte le emergenze, anche quelle più difficili. Un fiore all'occhiello del sistema nazionale della protezione civile in Toscana è la centrale operativa del 118 Pistoia Empoli. Essa svolge un duplice compito di sala operativa regionale per le maxi emergenze e insieme a quella di Torino di CROSS, acronimo che indica centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario. Il consiglio regionale vuole esaltare con questa cerimonia il grande ruolo che ha svolto anche durante la pandemia. L'8 marzo è la festa della donna, ecco la cerimonia che si è tenuta in consiglio regionale con tanto di premiazione. Ogni 8 marzo è un momento per fare il punto della situazione sulla condizione delle donne. Oggi non è soltanto la festa della donna, è la giornata dei diritti delle donne e è importante capire a che punto siamo in Toscana e nel nostro paese. A marzo il consiglio regionale ha voluto celebrare anche il sessantesimo anniversario dell'Ordine dei giornalisti. La legge che lo ha istituito porta la data infatti del 1963. L'informazione è un bene prezioso, è un fondamento della democrazia, il ruolo dei giornalisti e dell'informazione professionale allora è centrale e necessario. Il presidente nazionale dell'Ordine Carlo Bartoli ha partecipato ad un convegno promosso qui sui temi proprio dell'informazione. Poi l'ufficio di presidenza presenta un nuovo bando per i progetti di sviluppo sostenibile e cultura che vuole ricalcare le orme e i successi di rigenerazione toscana. Il titolo del bando dice già molto la via del futuro dove via in realtà è anche un acronimo, una sigla. Via come verde e il sostegno alla mobilità sostenibile inclusiva così mettendo a disposizione risorse per arredo urbano, arredo scolastico per studenti con disabilità è aperta, come le pagine di un libro e quindi risorse che mettiamo a disposizione per la promozione della lettura. Insomma la via del futuro è una strada da costruire insieme a tutti i comuni della nostra regione. L'11 aprile 2023 regionando, sì questa nostra trasmissione ha compiuto 21 anni, è diventata più che maggiorenne. Allora noi torniamo indietro nel tempo e rivediamo con questa immagini quello che era il trailer e il promo della prima trasmissione, 11 aprile 2002, ma già in precedenza Telegram Ducato seguiva costantemente tutte le sedute del Consiglio regionale. Carico di significati questo ricordo così come lo è quando ci proiettiamo nel futuro con questa iniziativa. Il percorso verso la Toscana del futuro è cominciato da tempo, qualche giorno fa a Firenze si è fatto il punto. L'iniziativa è stata del Consiglio regionale con la spinta forte del suo Presidente e di tutto l'ufficio di Presidenza. Il compito nostro è quello di continuare questo lavoro nei prossimi mesi, di farlo tutti insieme con l'obiettivo di rendere a fine legislatura disponibile alle cittadine e ai cittadini della Toscana un indirizzo della strada da perseguire perché la politica ha il compito sempre di anticipare il progresso. Ma come se la immagina il Presidente Mazzeo la Toscana del 2050? Io me la immagino una terra sempre più accogliente, spero e penso che nei prossimi anni anche da noi dovremo avere la capacità di collegare per esempio la costa con il centro della Toscana con i treni super veloci piuttosto che ripensare il sistema degli ospedali, gli ospedali digitali. Un riconoscimento il più importante del Consiglio regionale alla Compagnia Teatrale della Fortezza nel carcere di Volterra lo riceve il regista e fondatore Armando Punzo. Ad aprile c'è stato il giro di boa del Consiglio regionale nel senso che sono trascorsi due anni e mezzo dall'elezione di questo ufficio di Presidenza e dalla prima seduta che fu il 19 ottobre 2020 in piena pandemia. Ebbene sono state effettuate nuove elezioni e all'ufficio di Presidenza sono stati tutti confermati con due aggiunte però. Rivediamo la proclamazione e ascoltiamo un primo commento. Risulta eletto Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo. Vorrei che fosse sempre più vista questa come la casa di tutte le Toscane e di tutti i Toscani perché qui si costruisce il futuro di una regione che ha una storia grande e importante. Si costruisce il futuro della regione più bella del mondo. Al fianco di Mazzeo restano i due vicepresidenti Stefano Scalamelli e Marco Casucci. Per il primo ci sono 21 voti, per il secondo 13. Confermati anche i consiglieri segretari Federica Fatoni e Diego Petrucci. Ci sono però due posti in più nell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea perché nei mesi scorsi lo stesso Consiglio ha approvato una modifica allo statuto regionale che allarga l'organismo introducendo la figura di due consiglieri questori. Un ruolo che adesso ricopriranno i consiglieri Francesco Gazzetti e Marco Stella. Uccisa alla fine del suo turno di lavoro in ospedale, il brutale assassino della psichiarra Barbara Capovani a Pisa scuote l'Italia, genera sdegno e commozione. Oltre a un rinnovato impegno per evitare che tragedie così si possano ripetere. In Toscana in questo momento ci sono 70 persone in attesa di poter scontare la propria pena dentro una REMS. Quindi ci sono 70 persone che dovrebbero stare in carcere, che anziché in carcere perché sono pazienti psichiatrici dovrebbero scontare la propria pena in una REMS e siccome non c'è posto nella REMS sono a carico delle famiglie e a carico degli psichiatri. C'è un dato nazionale che ci deve far riflettere ed è quello dell'aumento esponenziale delle aggressioni ai sanitari negli ultimi anni. L'altro aspetto che ci deve far riflettere è quanto questa regione con le REMS e con le cliniche di comunità sia in grado di accogliere le persone con fragilità. È la festa dell'Europa. Il Consiglio regionale la celebra anche quest'anno con una seduta solenne e un'attenzione particolare al rapporto della Toscana, molto solido tradizionalmente con l'Unione Europea. A Fiesole, tra l'altro a sede dell'Istituto Universitario Europeo che fu il frutto dell'intesa tra gli stati fondatori e di qui in questi giorni passano leader nazionali ed europei, ministri, studiosi. Il nostro ministro degli esteri interviene anche qui a Palazzo del Pegaso e nel suo intervento sottolinea da un lato la rilevanza degli organi di rappresentanza dei territori, dall'altro e di conseguenza l'importanza che il Parlamento Europeo abbia la possibilità vera di fare leggi. L'Unione Europea non deve fare quello che fa lo Stato, lo Stato non deve fare quello che fate voi, voi non dovete fare quello che può fare il Comune e quello che può fare la circoscrizione non lo deve fare il Comune. Ecco perché io credo per esempio, e ho cercato di dimostrarlo sia da Commissario Europeo sia da Presidente del Parlamento, che il Comitato delle Regioni debba avere un ruolo ancora maggiore rispetto a quello che ha. Perché? Perché sindaci e amministratori regionali sono a contatto diretto dei cittadini ancor più di quanto non lo siano i parlamentari europei. Dopo l'ufficio di Presidenza il Consiglio regionale vota anche per le sette commissioni permanenti e sono tutti confermati, anche in questo caso, i vertici precedenti, quelli che guidavano già prima queste commissioni. Le elezioni amministrative che si svolgono tra metà e fine maggio influenzano naturalmente in maniera forte il dibattito politico anche qui a Firenze in Consiglio regionale. I risultati? I tre capoluoghi in cui si votava Pisa, Massa e Siena restano tutti al centro-destra. Nelle altre città con più di 15.000 abitanti c'è una ripartizione nel senso che Campi Bisenzio va ai 5 Stelle, Pescia al centro-sinistra e invece Pietrasanta resta alla centro-destra. Muore Silvio Berlusconi, l'imprenditore che ha fondato Forza Italia. Berlusconi è stato un protagonista indiscusso negli ultimi 30 anni della storia del nostro paese, non solo dal punto di vista politico ma anche imprenditoriale e sportivo. Come ha detto il presidente Sergio Mattarella, un leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica incidendo su paradigmi, usi e linguaggi. Il ricordo all'inizio della seduta è affidato al capogruppo di Forza Italia. Cosa mancherà chiediamo soprattutto adesso di Berlusconi? Credo che a questo paese mancherà soprattutto l'aspetto umano di Silvio Berlusconi. Poi del politico ma è l'aspetto umano che ha colpito più di tutti, era una persona che non parlava mai male di nessuno. Nella nuova variazione di bilancio approvata a giugno ci sono alcune voci molto interessanti. Bonifiche e ripristino ambientale, i capitoli più rilevanti di questa variazione di bilancio sono proprio questi due. Vediamo la scheda. Si interverrà insomma sulla strada regionale 429, quella contaminata dal Cheu, la sostanza tossica degli scarti conciati. C'è poi un altro intervento molto atteso ed è quello sul sito di interesse nazionale e regionale, SIN-SIR di massa. Sono a disposizione 12 milioni. La parte più consistente sarà erogata nel 2025. Da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla regione toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del Cheu. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della regione, così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area SIN-SIR della provincia di Massacarrara. Finalmente è arrivata una variazione di bilancio da 15 milioni che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute e l'ambiente di alcuni territori che sono quelli della 429 e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose. Quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione e di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa un anno e mezzo. E poi c'è il Corecom approvata senza voti contrari. La relazione sull'attività svolta nel 2022 si guarda avanti però con i nuovi membri. Il presidente è Marco Meacci che annuncia presto gli stati generali della comunicazione. Con lui lavoreranno altri quattro membri. Sono Benedetta Baldi, Carlotta Agostini, Bianca Maria Giocoli e Biagio De Presbiteris. Il Consiglio regionale ha detto sì all'unanimità ad una legge che vuole limitare il gioco d'azzardo. Non è una materia su cui le regioni possono intervenire direttamente ma la norma approvata vieta intanto e lo può fare a tutti i minori l'uso delle cosiddette ticket redemption. Sono le macchine da gioco che non danno al giocatore il denaro e questo le differenze dalle slot ma dei punti sotto forma di ticket che possono essere accumulati e utilizzati poi per l'acquisto di premi. Sono presenti di solito all'interno delle sale giochi e di alcuni centri commerciali. Di fatto non si tratta di gioco d'azzardo ma certamente possono creare dipendenza. La prima firmataria del provvedimento è stata la consigliera Anna Paris che ne ha spiegato il significato e le finalità. Troviamo di fronte a ragazzi deboli che più giocano si crea un meccanismo gioco-cratificazione, un meccanismo subdolo. Un altro intervento del Consiglio regionale a fronte della grande ondata di caldo che a luglio ha colpito anche la nostra regione. Non risolverà certo tutti i problemi dei lavoratori ma la nuova legge regionale che vuole tutelare quelli più esposti a condizioni di lavoro estreme, pensiamo a quelli dell'edilizia, è comunque un segnale in un contesto completamente diverso dal passato dove le ondate di calore si moltiplicano. La legge stabilisce allora tutele più ampie. Il programma regionale di sviluppo segnerà l'azione di governo della regione per quest'ultimo biennio della legislatura e subito il presidente della prima commissione spiega perché nonostante si riferisca al quinquennio 2021-2025 viene esaminato soltanto adesso. Il programma regionale di sviluppo indubbiamente sconta la particolarità di questa legislatura che è nata nell'autunno del 2020 quindi in piena crisi pandemica e che quindi per tutta la sua prima parte ha avuto gli effetti della pandemia anche sull'azione di governo, cosa che è avvenuta non soltanto per la regione toscana ma per tutti i livelli di governo del nostro paese e anche a livello internazionale. Ripartiremo da qui nella seconda parte di questa nostra trasmissione, la sintesi di un anno del Consiglio regionale della Toscana.